Mozzarella di bufala DOP passa all'unanimità in Consiglio regionale l'ordine del giorno presentato dal Presidente dell'Assemblea Vincenzo Cotugno a tutela delle tradizioni e della genuinità della mozzarella di bufala campana DOP prodotta in Molise nel Venafrano. Un provvedimento ha commentato Cotugno che va a sostegno degli allevatori di bufale e dell'intera filiera agricola contro le recenti modifiche al disciplinare presentate dal Consorzio di tutela al Ministero dell'Agricoltura che rischiano di minare la qualità dell'intero prodotto. A maggio scorso l'Assemblea del Consorzio per la tutela della mozzarella di bufala campana DOP ha deliberato una nuova proposta di modifica al disciplinare. Con queste modifiche si vorrebbero introdurre il congelamento della mozzarella, l'utilizzo del vapore per la cagliata e la realizzazione dei cosiddetti filoni da un chilo. In questo modo sarebbero a rischio le caratteristiche di formaggio fresco con un impoverimento della qualità del prodotto. Una proposta dicono i produttori delle regioni di provenienza della bufala che è stata già trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole per l'approvazione e la ratifica delle modifiche del disciplinare ma che non rispetta le proprietà e la storia di questo antichissimo prodotto del mezzogiorno che identifica proprio la Campania, il Basso Lazio, la Puglia e la zona di Venafro. La mozzarella di bufala insomma è considerata ormai un bene immateriale di proprietà dello Stato. Con l'ordine del giorno approvato in Consiglio regionale, ha dichiarato Cotugno, abbiamo tutelato i prodotti della zona del Venafrano e i consumatori di questa eccellenza casearia e nei prossimi giorni verrà chiesto di avere almeno un componente molisano nel consorzio di tutela della mozzarella che comprende le regioni Campania, Lazio, Puglia e Molise. Da anni i produttori delle eccellenze gastronomiche del Molise, Ventricina, Pampanella, Tartufo, Cacio Cavallo e mozzarella di bufala, solo per citarne alcune, chiedono il riconoscimento del marchio e una politica di tutela da parte delle istituzioni. Finora i risultati sono più stosto scarsi e l'immagine culinaria del Molise resta affidata solo al coraggio e alla tenacia di tanti, tantissimi piccoli produttori che non vogliono arrendersi.